E' sempre lei? Che altro c'è da dire? Mamma, ma dobbiamo fare per forza questa festa? Certo, è il tuo compleanno, bisogna festeggiare. Perché hai chiuso? Non l'ho chiuso io. Papà va via e ti lascia qui. Ti odio. Sono loro, sono tornati. Dimmi cosa hai visto. Ho paura. Dove hai lusi? Su, io, Nicola. Dimmi dove! Dimmi che cosa devo fare. Qualunque cosa. Lasciaci andare via. Adesso loro vogliono tornare.